11 minorenni sono indagati nell'ambito di indagini della polizia perché accusati di fare parte di un branco responsabile di due violente aggressioni omofobe commesse a Vittoria nel Ragusano lo scorso mese di dicembre. Le indagini della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria, avviate dopo la denuncia delle vittime, sono state coordinate dalla procura per i minorenni di Catania. In un caso gli indagati hanno seguito la vittima provocandola con insulti, spinte e poi colpendola con calci e pugni interrotti dall'arrivo di un passante. Un'importante aiuto all'identificazione dei minorenni è giunto dalla visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza. Alcuni degli indagati, anche su pressioni degli ignari genitori, hanno ammesso in lacrime le loro responsabilità davanti al magistrato. Agli 11 è stato notificato un avviso di conclusione indagini per lesioni aggravate dall'omofobia. Altri due minorenni sono indagati dalla procura di Ragusa. Quasi tutti i denunciati comunque erano già conosciuti dalla Polizia di Stato e questo ha permesso una rapida individuazione. Dopo aver riconosciuto gli autori del reato, gli investigatori hanno convocato le vittime negli uffici della Polizia di Stato per il riconoscimento.